Una sonda cinese è atterrata sul lato oscuro della Luna per raccogliere campioni all'interno del cratere più antico del satellite terrestre. La missione, che ha lo scopo di raccogliere campioni di suolo e roccia, lascia intravedere una rinnovata e crescente rivalità nelle missioni e nei progressi raggiunti nel campo dello spazio tra Stati Uniti, Giappone, India e Russia. La Cina vuole portare una persona sulla Luna entro il 2030, il che la renderebbe il secondo paese dopo gli Stati Uniti, che puntano a tornare sul satellite nel 2026.